Elemento di grande fascino e di spessore culturale è il Museo delle Macchine di Leonardo da Vinci, gestito dall'Associazione Creativa Menz. Esso è presente all'interno del palazzo Pinelli Pignatelli. Dal 2009 l'Associazione Culturale organizza una mostra dal titolo Leonardo da Vinci nella città del Galateo, opera del Galateo Giuseppe Manisco, che, appassionato del genio vinciano, ha deciso di ricostruire una settantina delle sue innumerevoli opere. Un percorso unico e irripetibile tra macchine della guerra, della tecnologia e dell'architettura. Igroscopi, ponti temporanei, girevoli, fluttuanti su barche e ad unica campata, poi ancora anenometri, cuscinetti, compassi, addirittura anche un lanciasassi a canne multiple del tutto funzionante. Un viaggio sensoriale ed emozionante tra principi fisici, applicazioni belliche, curiosità ed aneddoti di una vita eccezionale, spesa ad indagare i segreti dell'universo.